Se lei me lo dice così è possibile che lei mi ha convocato perché ieri ho fatto la pupù, eh sì quella puzza infestante è stata colpa mia Dopodiché mi è stato sottratto il telefono. Da chi? Erano una mandria di persone. Una mandria? Sì una banda di bofale proprio, mungivano pure, come se dice? Facevano muuuu L'ho mai visto questo? No. Sicuro? 100% Stacco che devono chiamare anche gli altri. È un fotomontaggio, non ero io! Non potete dimostrarlo, è la vostra parola contro la mia Finalmente in parto ce la faccio più qua a fare la ricotta qua nel collegio e finalmente un po' di aria fresca che mi viene manca la mendo e finalmente esco da qua dentro Questi quattro muri fratelli che mi stanno facendo venire uno alvenimento, manca la mendo e finalmente che non faccio più la ricotta ma mi sto a fare la mozzarella E che rottura è stata lui? Mi raccomando procediamo con ordine Quando vi dico di fermarci ci fermiamo, quando c'è da pedalare pedaliamo Va bene Va bene prof! Va! Oh mamma Aiuto Gianni da male! Ah! 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 Ma se stai ferma che urli a fa? Ho paura! Frena, frena! Come si frena? Frena! Come si frena? Come si frena? Come si frena? Come si memorizza qua? Ma a me lo chiede, veramente? Ok, al telefono lo devo chiedere Oh telefono, come si memorizza? Me lo spieghi tu perché la sorvegliante qua parà la fece! C'è delle... Ma che ti urli? Oh vizietta! Viglia satana! Dove? Dov'è? Che schifo ma roba! Pazzo morì! Pazzo morì! Tutto ma gli insetti no! Gli insetti no! Sto morì! Ah! La cavalletta fa proprio schifo, ho visto... Ho guardato così, ho visto gli occhi che mi guardava È proprio schifo! No raga, non scherzate, sono cavallettofobica! Ma mi vuole far venire un infarto oggi! No prof, è la cavalletta che vuole far venire un infarto a me! Quella cosa orribile addosso a me! Ma stiamo scherzando! Voglio andare a casa! Voglio andare a casa! Cosa si è mosso? Cosa si è mosso? Ce la posso fare, ce la posso... A me è venuto già il mal di testa, perché col telefonino piccolino... Aspè, allora motiviamo quello grande, tieni! Aspè, la squadra di matematica! Ci siamo... Ah, vittoria! Sinzuo! Sinzuo, avvicina a me, non lo fai, ok? Gia, chi c'ha? Qua c'è scritto... Non si capisce né se ho provato a leggere, né quantomeno come dici che si legge! Sapete com'è cantare la canzone buon compleanno in cinese? No, tipo... È molto facile perché ripetiamo solo una frase! Anche noi in Italia ripetiamo una frase! Buon compleanno a te! Che sia la frase? Qualcuno riesce a leggere la frase? Oh, e a cosa c'è sta scritto? Giù ni Giù ni Giù ni Senrì Senrì Sjallà Quaile 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 Più che tanti auguri parlano la mentela Giù ni sanrì Quaile Giù ni sanrì Quaile Giù ni sanrì Quaile Allora signora grosso Ci canti la canzone Oh ma che allunca fa? Ci sento Adesso dobbiamo imparare i numeri Quattro in cinese si pronuncia Z Ma mi dai z euro Z cosa? Z euro ma? E cosa sti z euro? Z euro? Ma perché figlia a me? Perché? Morire è z Z E invece quattro si dice Io sono nato il quattro febbraio Quindi sono nato il z febbraio Che tra poco vuol dire Sì che è gennata e giù molto puro Sesto giorno Otto Si dice Pa Ok Ma se non mi dai z euro Mi dai pa euro E quale hai mosto il pa? Mi dai ma dammi pa euro Ma tu non mi dai mazzati in capo e faccio prima Signorina santeramo Pa Pa Più alto Pa Va bene così più alto? S S S S S S Si è non cantato Pa 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 E palle che mi hai fatto scendere S S S S S S S Corri E si è venuto là zollito Taiji Eh Taiji Ci vediamo là Taiji Taiji è pure a te Va battendo va? La sfiga è sempre con me Sì quando mi hanno battezzato Il prete mi ha detto Che la sfiga sia sempre con te Amen Mi metto Non so, non diventerò un miliardario Io da grande diventerò un miliardario E fosoddia, mamma, fosoddia Diventare un miliardario? Come però? Come vuole farlo? E non lo so Non lo so ancora? Non ha ancora nessun'idea? Però so che ci diventerò Diventerò un miliardario? E come? Qual è la tua grande idea? La tua grande passione? Non lo so, ma lo diventerò E fallo prima che man recetto, te prego E grazie Piaci te Ci vediamo, ciao ciao Con sta capo pure il miliardo te fa ciao ciao Io già tanto so spiccare l'italiano Figurati se spicco l'inglese io Infatti, fra, già tanto che so spiccare l'italiano Non mi rompere, sennò ti faccio spiccare il volo Vi consiglierei di chiudere le bocche E di aprire gli orecchi E seguire questa lezione Chiudi la bocca vicino a me E tu che rostucia eslo Stupeciales Orecchie Facciamolo a spelling tutti insieme O-R-E-C-C-I-E E così non è orecchie E orecchie Ma faccio fare una bella c***a Della serie Vaga a fare una c***a E ci penso È una ragazza piena di cuore I piedi E me la chiami piena di cuore A faccio lo c***a Mi sa cosa succede qua Chi non segue le regole Sa cosa succede? No Mi picchi Zitto faccio lo c***o tanto Passato remoto del verbo ridere Rio Ridessi Risi Che vuoi risi? E non ti ti appena questa busta Non vado a capire nato Risi Tu È busy Ma che bevuto? Non sta buono Aspira un secondo E Er E più che river È ridir così Nome del padre Della famiglia Petolicchio Della Sorella e della fec petolicchio e cura è una nuova preghiera è un nome del padre della famiglia petolicchio della sorella e della fec petolicchio amen siamo pazza benedista preghieri F io non so manco dove siamo arrivati io ho messo un avvocato a casa una consonante c'è Marta che mi guarda così ma che vuole? vorrei che ingarrassi lotta F ma buono sei fissato questa F front c'è la race ma che vuoi da me? che ne indovini una signorina quello vorrebbero capra voglio fare un complimento al signor Gio dicendogli che è un gran bono ma si vede buono mi dicono che lei prende tutto come un gioco un grande gioco e che a me piace giocare e che quindi non studia ma che può studiare? deve studiare come tutti gli altri se non studia il gioco finisce male che paura mi hanno dato un voto ingiusto 5 e mezzo non penso sia adatto al mio comportamento e al mio rendito scolastico io rendito molto bene a scuola ingiusto ma guarda dove vengono l'importante è che siano buoni sti strumenti stranieri e voi mandateci manzi che poi ci penso io se mi piace il manzo manzone vieni qua che ti aspetto siete solo scostumati ci vediamo alla prossima puntata scostumati ciao ciao Autore dei sorrisi